Nulla facenti a cattoni, ora anche parcheggiatori abusivi. Giro di vita del comune di Treviso contro questi fenomeni come per la micro criminalità in città. Dopo la solidarietà al farmacista vittima della rapina dell'altra sera, sono di oggi i complimenti al questore di Treviso per aver bloccato subito il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Due rumeni, quasi trentenni, che vivono nel campo nomadi di via Capuccina a Mestre, per tutta la mattinata di oggi si facevano pagare, dopo aver indicato le auto in arrivo, quali stalli fossero liberi in piazza Duomo, in alcuni casi insistendo a tal punto da intimorire chi stava alla guida, pare anche minacciando di ritorsione al veicolo se non ci fosse stata la mancia. Un fatto segnalato alla polizia che ha arrestato i due ora con foglio di allontanamento dalla città. Un fenomeno, il parcheggiatore abusivo, che non si era mai visto a Treviso. È un fenomeno che va assolutamente stroncato sul nascere, non possiamo accettare che ci siano queste cose e del resto questo impegno dell'amministrazione comunale di Treviso contro l'accattonaggio molesto che ricordo è gestito dal Racket, è un impegno che va avanti nel 2014. Sette gli accattoni individuati solo nella mattinata di oggi dalla polizia municipale che ha sequestrato oltre 50 euro in monetine e le mosine va ricordato che non vanno però a chi ha bisogno. L'accattonaggio non è povertà, è frutto appunto di uno sfruttamento, è appunto frutto del Racket. L'obiettivo è eliminare tutto ciò che porta alla microcriminalità e al disagio dei cittadini, compresa la permanenza nelle piazze della città dei migranti in cerca di connettività per il telefonino, ora risolta con l'impianto all'interno dell'ex caserma Serena. Quando ci risulta il contratto è già stato redatto, ora si tratterà appunto di realizzare l'impianto in tempi molto brevi. Temi trattati durante l'ultimo consiglio comunale dove non sono mancate le polemiche tra il vice sindaco e il consigliere Maristella Caldato. La consigliera Caldato è una consigliera chiaramente di minoranza, lo ha deciso la maggioranza che governa Cassugana, lo ha deciso il gruppo del Partito Democratico e il Partito Democratico ha espulso la consigliera Caldato, quindi che fa parte della minoranza. Pertanto la consigliera Caldato non è un problema, non ci sono richiami da fare, lei sta facendo il suo ruolo, quello per il quale devo dire si è sempre impegnata, di consigliera, di brava consigliera di opposizione.